Ferragosto di fuoco a Caggiano, dove sabato 14 è scoppiato un incendio in località San Francesco, il rogo ha messo in pericolo aziende e abitazioni. Le fiamme si sono sprigionate lungo la montagna tra Caggiano e Salvitelle. Per questo motivo si è reso necessario chiudere la strada provinciale 341 all'altezza della località Grotta Rossa. Le fiamme infatti hanno determinato anche il rischio di caduta massi. Impegnata sul posto una task force imponente, 5 squadre della protezione civile, tra cui i volontari della Gopi di Caggiano e Polla, anche con un autobotte, i vigili del fuoco di Sala Consiline e di Salerno, un elicottero della protezione civile regionale, gli operai della comunità montana Tanagro Alto Mediosele, l'antincendio della regione Campania e i carabinieri forestali di Polla. Il fuoco si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni ed è stato necessario evacuarne almeno 3. 24 ore Caggiano è stato ostaggio delle fiamme, alzatesi e diffusesi nel giro di poco tempo. Il sindaco Modesto la mattina ha tuonato contro i responsabili e un chiaro incendio di matrice dolosa ha detto. Almeno 3, infatti, punti di innesco rinvenuti, forse anche con presenza di combustibile. Colpite due aziende agricole che hanno riportato diversi danni, annerite le facciate delle abitazioni, una ventina, le persone rimaste senza corrente perché i fili sono andati bruciati. Già da domenica tutto è stato ripristinato sul posto solo cenere e distruzione, ora però sono scattate le indagini per individuare i responsabili. Intanto, sull'altro fronte del Vallo di Diano, i volontari della protezione civile di Padula, vista l'estate nera dal punto di vista degli incendi, durante il weekend di Ferragosto hanno effettuato lavori di pattugliamento antincendio boschivo fra i comuni di Padula, Sassano, Sala, Montesano, Casalbuono, Buonabitacolo e Stanza e lungo la Bussentina, pronti a segnalare alla Sala Radio Sopi di Salerno principi di incendio e comportamenti a rischio. Fondamentale per la sicurezza del territorio la loro attività di controllo H24, condotta anche con l'ausilio del drone in dotazione. L'attività si protrarrà fino alla fine della campagna antincendio boschivo, così come previsto da un'apposita convenzione stipulata con la protezione civile regionale.